L'8 luglio 1978, Pertini diviene il settimo Presidente della Repubblica Italiana. Spero di essere fedele alla Repubblica e di osservare realmente la Costituzione. Ma da oggi io ceserò di essere uomo di parte. Intendo essere solo il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Un Presidente forte, carismatico, spesso burbero, probabilmente il più amato.